Come faccio ad aumentare la densità ossea con esercizi senza utilizzare i carichi? Come ben sai, quando c'è una condizione di perdita di tessuto osseo, l'esercizio con carico, quindi con dei pesetti o un carico esterno, è fondamentale per dare delle sollecitazioni meccaniche. Però, in determinate condizioni, soprattutto se sei all'inizio, esiste una tecnica di allenamento che prevede un'esecuzione degli esercizi in maniera lenta e controllata che ti permette di porre delle sollecitazioni meccaniche attraverso l'aumento del tempo di tensione, il time under tension. Quindi, per esempio, una ripetizione di un esercizio, invece di farla in 3 secondi, la faccio in 10-15 secondi. E ti invito a provare questa tecnica, prova a fare un piegamento sulle gambe e a metterci 20 secondi per farlo e poi mi dirai il carico se l'hai sentito.